Costruire nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da alimentari a biomasse legnose, sembra sia diventato il business del giorno. Così in una nota il consigliere comunale di Salerno di Tutti, Giampaolo Lambiase, che sottolinea che nascono addirittura aziende specializzate, capace di seguire in progress tutta la pratica, dallo studio di fattibilità fino alla completa realizzazione chiave in mano. Sono a disposizione incentivi statali che ammontano a centinaia di milioni euro l'anno. La provincia di Salerno è terra di conquista. Ci sono proposte di realizzazione o impianti addirittura in costruzione a Baronissi, Eboli, Serre, Giuncano, Oliveto Citra e Pestum. Ma ora, su segnalazione della locale sezione di sinistra italiana di Ponte Cagnano, pare che anche a Salerno, nella zona industriale in via Scavate e Case Rosse, è in costruzione un nuovo impianto a biomasse. Le procedure semplificate previste per ottenere l'autorizzazione a costruire hanno fatto sì che addirittura gli amministratori comunali pare non sia una conoscenza della realizzazione dell'opera. Pare che sia diventata di moda la presentazione di progetti per centrali che dovrebbero essere alimentate da legname, sostanzialmente. hanno presentato progetti a Baronissi, addirittura in costruzione, a Oliveto Citra, a Pestum, a Eboli. Ci sono finanziamenti, centinaia di milioni di euro statali per la realizzazione degli impianti, finanziamenti pubblici. In alcune zone, purtroppo per le procedure semplificate che ci sono per quanto riguarda l'approvazione di questi progetti, addirittura le amministrazioni comunali non ne sanno niente, sono gli uffici che procedono automaticamente. Tra l'altro a Salerno, nella zona industriale a via Scavate e Case Rosse, si sta realizzando proprio un impianto che dovrà produrre energie elettriche, quindi trasferirle e venderle all'Enel. Credo non sappia niente l'amministrazione, qualche amministratore comunale di questo. Di solito non si rispettano mai le distanze tra l'impianto e le residenze. Deve allarmare per il fatto che vanno queste centrali alimentate giorno dopo giorno, continuamente con legname che non si sa dove viene reperito, a meno che non si tagliano boschi nelle nostre zone, la cosa significa anche un pericolo per la rigenerazione degli alberi. Dovrebbe allarmare anche il fatto che sono investimenti finalizzati semplicemente ai finanziamenti pubblici che devono arrivare, quindi non sono esigenze assolutamente della popolazione. Le domande che faccio prima di tutto all'amministrazione comunale dovrebbe essere più attenta l'amministrazione del Comune di Salerno quando succedono queste cose e pronunciarsi nel merito delle motivazioni che hanno fatto in modo da ottenere l'autorizzazione. E poi la stessa zona ASI, la zona industriale, il consorzio, dovrebbe interessarsi anche quando avvengono queste cose in modo più attivo. Si sta smantellando la zona industriale di Salerno in un piazzale, questo è il caso della centrale a Via Scava del Caserossi, in un piazzale si realizza una centrale dove prima c'era un'attività produttiva che pare sia chiusa, cioè se l'ASI non si fa promotore per tentare di rifunzionalizzare i capannoni, le aree, un'epoca produttiva, la zona industriale sarà abbandonata a se stessa e non sapremo neanche quale attività vengono insediate sul nostro territorio, sul territorio comunale di Salerno. Grazie.